benvenuti benvenuti cari amici siamo un video di questo nuovo video allora oggi abbiamo una situazione particolare per cui vi voglio belli attenti come vedete indosso la maglia dell'esercito italiano perché un'analogia che siamo sostanzialmente in guerra abbiamo bisogno di un supporto psicologico molto ma molto importante perché so che tantissimi di voi che magari si trovano in questa condizione che per alcuni è nuova io l'ho vissuta tante volte e la vedo in questo momento come una grandissima opportunità quindi quello che vi andrò a dire sostanzialmente riguarda anche in parte la mia esperienza e per quell'ora iniziamo subito che cosa vediamo vediamo il fear index sostanzialmente la paura a livello 10 per cui c'è tantissima paura ora vorrei mostrarvi quelli che sono i livelli a paura nel corso del tempo ok dal dal febbraio 2018 ad oggi livelli più bassi di oggi li abbiamo visti solamente al 15 settembre 2019 quindi di subito che cosa avviene quando abbiamo questi livelli di paura tendenzialmente indicano quello che è il bottom cioè della serie se le cose vanno male è ancora più difficile ok che vadano male e quindi questi possono essere grandissimi momenti opportunità per acquistare questo è il succo infatti se voi andate al di sotto proprio viene scritto extreme fear index diciamo un'ottima opportunità di acquisto ok invece quando siamo troppo euforici tendenzialmente segue una correzione ok quindi è più probabile che in questo momento abbiamo un bounce quindi una risposta a parte bitcoin e delle altcoin perché della serie peggio non può andare infatti ho twittato oggi ho scritto crypto crash is the biggest opportunity to make money ok quindi quando tutto va giù razionalmente bisogna andare a comprare poi possibile che vada ancora giù quindi nel breve periodo andate a soffrire però nel lungo periodo è più probabile ok che il tutto torni su quindi questo deve essere un concetto che ci tengo tantissimo però oggi parliamo in particolare di luna perché potrebbe essere una delle più grandi opportunità ok che abbiamo in questo momento e anche per lungo termine perché allora sostanzialmente come voi sapete della luna è ancorata quella su stable coin questi che dovrebbe avere un valore di un dollaro però che cosa è successo addirittura è andato giù a 0 70 naturalmente questo che cosa ha creato ha creato un dump su terra luna davvero pazzesco siamo passati nel giro di pochissimo tempo aveva una volta mai di 120 dollari attualmente siamo a 30 dollari quindi capite che potrebbe essere una grande opportunità però andiamo ora analizzarla perché siamo arrivati ok a 0 70 e non so se sapete quello che il meccanismo di di ust però sostanzialmente si rifà un peg e che cosa ha fatto luna foundation ha detto cavolo siamo andati a 0 70 ora dobbiamo riportare il prezzo a un dollaro e quindi sostanzialmente sono andate a prendere 1.5 miliardi di dollari ok di cui la metà in west e la metà in bitcoin e sono andate a metterla sulla stable come vedete anche da questo articolo il tutto è stato confermato tra l'altro lo stesso donno che il cio ok di tra luna appunto ha affermato che ha fatto questa ripartizione ok per far ripartire la stable coin in questo momento ha un prezzo a un prezzo di 0 91 e vedete come addirittura il prezzo è arrivato a 0 e 70 questa notte alle due per cui è davvero successa un'ecatombe ok su tra luna per andare a vedere più in particolare la chart e il prezzo però io vorrei ricordarmi una cosa naturalmente non è detto che questa venga però tra luna al momento rappresenta una delle migliori risorse all'interno da DeFi l'obiettivo di Donno è quello di porre in riserva come collaterale 10 miliardi in bitcoin perché sostanzialmente lui vuole creare una nuova era una nuova epoca del bitcoin standard cioè lui è comunque miliardario quindi non ha bisogno di ok di fare soldi lui vuole completamente rivoluzionare il mondo e io penso che Donno ok ce la farà questa sostanzialmente è la mia idea ovviamente come funziona tra luna sostanzialmente il funzionamento è seguente lo vedete qui all'interno di questa formula che è semplicissimo cioè quando il peg quando luna calia quando la stable coin calia vanno ad acquistare questi invece quando il prezzo è superiore quindi supponiamo che ora la stable coin vada oltre ad un dollaro ok vanno sostanzialmente e lo vediamo qua vanno sostanzialmente ad acquistare bitcoin ok questo sostanzialmente è il funzionamento di usd della stable coin più in particolare che cosa vediamo proprio in trending vediamo che la stable coin ok ok è apparso il 7.55 per cento ma guardate che cosa ha causato ok su terra luna un vero e proprio devasto infatti se noi andiamo a vedere addirittura in questo momento la troviamo al quattordicesimo posto con prezzo nominale di 29 dollari meno 52.57 per cento nel minimo 24 ore quindi è successo veramente un'ecatombe meno 65.68 per cento sui settimanali con una capitalizzazione di 11.5 miliardi ed effettivamente il prezzo in questo momento è di 29 dollari guardate qui abbiamo addirittura fatto una dip sui 23 e in questo momento vi dico subito il prezzo è governato da quello che succede su bitcoin che cosa vediamo vediamo che se bitcoin aumenta addirittura era aumentato di 1000 dollari arrivato a 32 sul bounce arrivato a 32.8 ok luna addirittura aveva fatto un pump a 40 dollari quindi questo momento la logica è la seguente se voi credete in bitcoin probabilmente tra luna tornerà su e anche in maniera molto ma molto spinta se in questo momento non credete in bitcoin tra luna andrà giù ma giù ancora forte ok praticamente è come un bitcoin leva sulla mente che non potete essere liquidati questa sostanzialmente la mia opinione ovviamente se voi poi avete opinioni differenti naturalmente potete scriverlo in questo momento il prezzo a pagare qual è è una soglia del dolore molto alta dipende poi dalla vostra indole dal vostro carattere perché qui è sempre tutto psicologico per andare a investire in questo momento in tra luna ve lo dico subito da l'ultima abbiamo perso circa un ok un 75 per cento che non è poco nel caso dovesse o che ritornare a questi livelli sarebbe circa un 300 per cento pulito quindi che cosa dovrebbe succedere sostanzialmente perciò che terra luna attorni a quei livelli bitcoin per lo meno dovrebbe tornare sui 48 mila dollari ok per rivedere un terra luna a questi livelli anche perché fortemente colateralizzato ok con bitcoin però vorrei porvi un grafico diciamo elementare ok per chi c'è fatto il primo anno di università economia o scienze politiche o giurisprudenza probabilmente lo conosce il grafico della curva domanda offerta secondo me quello che è successo su terra luna in questo momento è che c'è stata sostanzialmente una traslazione della curva della domanda verso sinistra quindi se noi trasliamo questa curva verso sinistra vediamo che il prezzo calia sostanzialmente ci sono state liquidazioni perché la gente è andata in panico però dal mio punto di vista il progetto rimane sempre lo stesso sempre uguale e quindi secondo me sono date via le marce ok sostanzialmente ve lo dico e secondo me torneremo che è al punto equilibrio questa è un po' la media naturalmente lo sono nei consigli finanziari così trading però io vorrei dire quella che la media secondo me il valore di un dollaro tornerà anche perché c'è stata un'importante risposta i 0,70 sono stati ripresi cioè scusate eravamo a 0,70 e siamo già a 0,91 in giro in poche ore e penso che don't know che andrà a risolvere la questione ovviamente se la questione va risolta il prezzo tende a tornare verso su più in particolare se sarà sostenuto anche da bitcoin in questo momento naturalmente assisteremo una grande volatilità però io sono molto fiducioso che su terra luna questa sostanzialmente è la mia idea quindi vi ho detto anche la mia su questo progetto andiamo a vedere un po' quello che succede sul dollaro di XY che nuovamente tende verso nuovi massimi quindi bitcoin è dampato anche in seguito ok al movimento che ha fatto di XY però io rimango fortemente convinto che è difficile che esso possa avere ancora forza perché perché siamo i livelli dei massimi di dicembre del 2016 quindi secondo me dobbiamo prendere ok tornare giù sul DXY e questo potrebbe dare una grande forza a bitcoin e tutto l'ecosistema di criptovalute ora andiamo a vedere quali sono delle idee che potrebbero succedere all'interno del mondo cripto e più in particolare anche su bitcoin che cosa abbiamo visto abbiamo visto scusate non l'ho analizzato cosa più importante è che ci troviamo nella stessa situazione ok di luglio del 2021 più in particolare abbiamo preso proprio lo stesso identico bottom questa notte quindi mentre noi europei dormivamo bitcoin ha fatto 29.600 dollari guardate uguale a quello che avvenne al 19 di luglio e più in particolare anche il 22 giugno addirittura si arrivò a 28 e 7 quindi cosa potrebbe succedere dal mio punto di vista ora secondo me ci deve essere un bounce una risposta ok secondo me i bulls comunque qui ci domanda ve l'avevo detto già ieri e la domanda si è vista secondo me domanda ancora debole perché alla fine bitcoin si ha fatto un 10 per cento nei giri di poche ore però questo potrebbe essere l'innesco ok di una reversa sostanzialmente come avvenne ok a luglio questa è la mia idea ovviamente poi se avete pareri contrastanti so che molti voi iniziano ora a dire siamo in bear market dirlo sui 30 vale poco ok bisogna dirlo secondo me quando siamo a questi livelli quindi se uno a questi livelli predice siamo in bear market allora li vale a questi livelli secondo me non vale nulla quindi io non dirò mai ok anche se arriviamo a 20.000 ok io non dirò mai siamo in bear market perché è troppo facile secondo me siamo ancora in bull market stiamo ritestando questo livello di 29.4 abbiamo ritestato e secondo me ripartiremo poi andiamo a vedere alcune idee la prima idea è quella di credible crypto e lui aveva chiamato i 28k siamo arrivati ai 29.4 lui aveva detto sostanzialmente la zona tra i 32 e 33 è un'ottima ok area di vendita per creare diciamo quella quella paura ok per arrivare poi sui 30.000 addirittura c'è Witei che invece afferma che il prezzo bitcoin potrebbe scendere sui 27 barra 26.000 per poi prendere e ripartire ok creare un nuovo ciclo diciamo di nuovi massimi addirittura fino a 80.000 questa è la sua idea poi naturalmente abbiamo t analyst che fa un paragone tra quello che sta avvenendo su bitcoin ok ora nel 2022 che sembra identico a quello che avvenne su bitcoin durante il crash dovuto al covid e quindi lui si aspetta una bella risposta a parte bitcoin e tutto l'ecosistema di criptovalute e vorrei ricordarvi ancora una cosa perché attualmente solamente il 4 per cento che la popolazione al mondo detiene criptovalute quindi immaginate se un giorno lotterà il 50 per cento che livelli potremmo avere infine vorrei andare a chiudere con questa notizia che tra virgolette è bullish anche se in questo momento ovviamente non va a fare la differenza perché c'è un famoso ok sito giapponese che adotterà come formi pagamenti per l'acquisto che di automobile sia bitcoin che xrp quindi se volete andiamo a vedere anche xrp naturalmente ha pagato sensibilmente questo dump da parte di bitcoin ha dato addirittura il supporto che va a 51 centesimi e siamo praticamente anche qui ai livelli di luglio del 2021 quindi quello che mi aspetto io sostanzialmente riassumendo è un bounce da parte del ecosistema di cripto in particolare bitcoin secondo me dobbiamo per forza tornare su non penso che andremo a rompere 29.4 naturalmente questa rimane la mia idea dove se succedere questo ok andrò a rivalutare quelle che sono le mie idee le mie ipotesi comunque io ve lo dico rimango sempre bullish naturalmente se vi è piaciuto questo video ti ricordo di subito nel like iscrivete canale e ci vediamo presto naturalmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo elite se volete con un costo di 50 euro e gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di subito il botone di like iscrivete canale e ci vediamo presto